C'erano dei margini molto residui, lo si era ben compreso già la scorsa settimana quando il Brilli Peri è rimasto chiuso per un episodio analogo a quello di Ancona. Domenica per la partita Rezzo-Entella gli abbonati di Curva Minghelli non potranno acquistare biglietti per altri settori dello stadio in occasione della partita in programma al Comunale con inizio alle 18.30. E' questo il dato emerso dal riunione del gruppo operativo di sicurezza, il GOS, che si è svolta questa mattina in questura ad Arezzo. La Curva Sud dunque resterà chiusa su provvedimento del giudice sportivo che ha sanzionato l'Arezzo per il petardo lanciato dal settore ospite scoppiato in campo lo scorso 26 ottobre che estordì un fotografo costretto poi a farsi refertare dal pronto soccorso dell'ospedale Dorico. Sulla questione abbiamo già detto la nostra a suo tempo. Ribadiamo un concetto, non è giusto che 1100 persone paghino per uno. Oggi ci sono i mezzi per poter risalire all'autore di quel gesto folle e sconsiderato. L'auspicio è che non si ripeta.